La biografia di questo artista La biografia di questo artista Non mancavano sotto il tappetino di casa Le forbici a forma di croce Per tenere lontani gli spiriti maligni Racconta a Jan storie bibliche E li legge Baudelaire e Rimbaud Insomma, questo bambino si fa ragazzo Pieno di entusiasmo e stimoli creativi E frequenta studi artistici Si narra che nel periodo universitario Era iscritto a due istituti E che si pagasse gli studi da solo Come? Non ci ha dovuto sapere Ma impara presto a procurarsi denaro A due idoli Robert Stroud Bandito di Alcatraz Un uomo che ha trascorso 54 Dei suoi 73 anni è rinchiuso E in prigione Divenne un grande ornitologo Jacques Mesrin Gangster francese Per capirci il pericolo pubblico numero 1 Tra i 60 e i 70 Jan Fabre soffre di insonnia Ed è famoso per avere un'idea al giorno E la capacità di vederla realizzata Non prima però di aver condiviso Con i suoi collaboratori Il progetto di questa idea Disegnato con precisione Su un foglio Con la sua inseparabile Biro Blu Insomma Avete capito che questo artista È unico nel suo genere In tutta la storia dell'arte Per lui l'arte Come per molti suoi colleghi Può spaziare a 360 gradi Infatti È pittore Scultore Regista Performer E poeta E chi più ne ha Più ne metta Adesso riuscirete a capire Molto meglio le sue opere Come ad esempio La forte influenza della Biro Blu Nel 1981 Si chiude in una stanza D'albergo a Leida In Olanda Per tre giorni E tre notti consecutive Precisamente 72 ore In onore Alla performance Di Joseph Beuys Ilad of the big art È il titolo L'artista intende Trasformarsi In una macchina Per disegnare Lo fa ovunque Sulle pareti Sui vestiti E sul suo corpo Insomma Ovunque La performance È filmata Con una telecamera Fabre Convive con se stesso Senza dormire E senza mangiare E senza avere contatti Con l'esterno Con la Bic Blu realizza Moltissime altre opere Sendo al 1977 Come la serie The Hour Blu Che comprende Numerosi lavori Come Flying Rooster Un telo di grandi dimensioni Ricoperto da segni blu Fatti appunto Con la Biro Dovete capire Che stiamo parlando Di un artista Che espone Alla Biennale di Venezia Per la prima volta All'età di 25 anni Che nel 2008 È il primo artista Contemporaneo vivente Ad esporre le sue opere All'Uvro Che ha un teatro Di sua proprietà Che la sua compagnia teatrale È tra le più rinomate Allo mondo E che le sue opere Sono nelle collezioni E nei musei principali Insomma Studiatelo con attenzione Perché la sua vita È la sua opera D'arte per eccellenza Alla prossima puntata Con Leroy E Artburg